Viaggio nel cuore della vita, qui e altrove. Space, in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. Una barriera blocca l'entrata ad una zona acquitrinosa. Ecco uno dei siti di lavoro dell'osservatorio delle zone umide mediterranee della Tour du Valais, in Camargue, Francia meridionale. I ricercatori hanno costruito con cura solide postazioni d'osservazione per non disturbare la fauna locale, cioè gli uccelli che trovano qui un'oasi di pace per rifocillarsi. Le zone umide sono anche importanti per ricaricare le falde freatiche, per proteggere dall'erosione le rive dei fiumi o delle spiagge, per la fornitura d'acqua dolce destinata agli animali. In definitiva, le zone umide sono essenziali per il ciclo dell'acqua, cioè la vita. Tutti hanno bisogno di acqua. Tutti hanno bisogno di acqua. Tutti hanno bisogno di acqua. Per poter essere convincenti, sul terreno ci si basa su una rete di organizzazioni non governative, associazioni di esperti che ci informino con dati affidabili. Si cerca di comunicare con un linguaggio comprensibile, essere l'interfaccia fra scienza e politica, in modo che la gente capisca quelli che sono i loro interessi politici per la protezione delle paludi. La grande difficoltà dell'osservatorio è passare dalla scienza alla politica. L'osmosi fra scienza e politica esiste a Glan, sulla riva svizzera del lago Lemano. La si ottiene con un'organizzazione internazionale, la Convenzione di Ramsar per le zone umide. Sentiamo il suo segretario generale aggiunto. Negli anni 60 un numero crescente di persone venne coinvolto nella sistematica distruzione delle zone umide per ragioni economiche, per l'agricoltura, per lo sviluppo industriale e urbano. Ci si rese conto che bisognava spingere i governi a intraprendere un'azione comune per il varo del primo trattato globale ambientale. La Convenzione di Ramsar sulle zone umide è stata firmata nel 1971. La Convenzione di Ramsar, intitolata la città iraniana, in cui venne stipulata, raccoglie 160 paesi. Il suo ruolo è centralizzare le informazioni scientifiche disponibili e ridistribuirle. E' inoltre necessaria una visione di insieme. In questo campo le immagini che vengono dallo spazio completano l'osservazione delle problematiche e delle difficoltà legate alle catastrofi naturali, come è stato il caso dello tsunami del 2005, in cui i satelliti hanno mostrato la loro efficacia. Per coloro che sono responsabili della gestione delle paludi e le controllano, il compito è gravoso, perché non sono luoghi dove si lavora agevolmente. Per questo la visione satellitare, la sua analisi, per esempio nel quadro del progetto Globe Wetland, diventa capitale e importante. Grazie al satellite Envisat e alla sua esperienza cartografica, l'Agenzia Spaziale Europea, ha concepito il progetto Globe Wetland, che punta ad aree a Ramsar e a chi opera sul terreno il massimo di informazioni il più regolarmente possibile. Katrin Weiss, responsabile del progetto Globe Wetland 2, si reca spesso in Svizzera per armonizzare l'azione con Ramsar. Lavoriamo su un'area che è un anello sul Mediterraneo, con una larghezza di 100 chilometri. Tocca il Nord Africa, il Medio Oriente, va dal Marocco alla Turchia. I punti blu sono i siti dei test, le zone acquitrinose che vogliamo mappare. Abbiamo un progetto in Giordania. Il sito è quello di Ramsar Azrak. La palude di Azrak sconta una forte pressione. Gli strumenti dei satelliti, che siano ottici o radar, permettono analisi multiple del terreno, che messe insieme stabiliscono una cartografia densa di informazioni precise. La situazione che avevamo all'inizio degli anni 90 era che le zone paludose, più o meno, scomparivano. L'abitate di fauna e flora veniva completamente distrutto. Così la gente sul posto cercava di ristabilire le paludi. La partita è ancora aperta, ma i primi risultati già sono visibili. Le nostre immagini saranno importanti per loro per fornire un'informazione sulla situazione che abbiamo avuto da 30 anni a questa parte e consentiranno di fare una pianificazione per la ricostruzione. Un'intera costellazione di satelliti d'osservazione continuamente in orbita attorno alla Terra trasmette senza sosta i dati che diventeranno fotografie o materiali cartografici. L'Estrin, Istituto Europeo di Ricerche Spaziali a Frascati, Roma, è la base centrale delle operazioni di ricezione dei dati dai satelliti per le nazioni o le agenzie spaziali che cooperano con l'ESA. È importante avere una visione del passato. Siamo fortunati ad avere immagini satellitari dal 1972 in avanti. È importante per la gente sul posto poter disporre di questo repertorio storico. La banca di immagini costruita a Lestrin dal 1972 consente di realizzare una cartografia cronologica che rappresenta un repertorio delle cause che hanno provocato i cambiamenti nelle zone analizzate. Queste carte sono inoltre uno dei vettori essenziali che compongono il progetto Globe Wetland, un lavoro minuzioso ma indispensabile. Presto, nuovi strumenti saranno a disposizione. Siamo veramente lieti nel poter disporre di un nuovo futuro archivio da Sentinel. Il vantaggio di Sentinel sta nella frequenza del suo controllo e nel poter accedere a dati in risoluzione migliore rispetto a quelli adoperati fino ad oggi. Il risultato di un accordo fra ESA e Unione Europea in vista di una sostituzione progressiva di Enfisat, il più grande satellite di osservazione attualmente in orbita attorno alla Terra, è la famiglia dei Sentinel, che comincerà ad essere operativa alla fine di quest'anno. Questi satelliti di ultima generazione dispongono di radar ad alta definizione e di ottiche agli infrarossi. Ma a cosa servono, quindi, le equip sul campo? Al semplice controllo? Non so se bisogna considerarle così o se è l'inverso, cioè che siano le osservazioni satellitari a portarci qualcosa. Per esempio, per sapere quale sia l'estensione delle aree acquitrinose che restano nelle zone mediterranee. Qui l'impatto sull'acqua è pesante, queste zone umide sono scomparse a gran velocità ed è qui che intervengono le immagini dei satelliti. All'osservatorio della Tour du Valais, tutti gli abitanti delle zone paludose sono oggetto di studio. Si studia la loro alimentazione, come si riproducono, il loro impatto sull'ambiente. Nessuna specie è esclusa. È un gambero introdotto dall'uomo e originario dell'America. Dagli anni 70 si diffonde in tutta Europa. L'invasione è iniziata in Spagna. La Spagna e il Portogallo hanno colonie molto dense e non pochi problemi. È vero che i danni si ripercuotono sulle opere di irrigazione, soprattutto sulle risaie. Si pensa a un certo impatto. Lo studio del piccolo gambero americano darà molti elementi che completeranno il lavoro di cartografia dei satelliti. Si potrà per esempio capire il perché del cedimento di alcune sponde e censire le zone dell'habitat di questo crostaceo infestante. Le ricerche che l'hanno portato qui sono utili non solo per la Camargue ma per tutto il bacino del Mediterraneo. Riceviamo regolarmente ricercatori o ingegneri che vengono da tutte le zone umide del Maghreb e del Medio Oriente e si confrontano col nostro modo di studiare o di proteggere queste aree. Quindi le ricerche che si fanno qui sono utili anche a tutti i colleghi dei 27 paesi partecipanti. Sono 27 i paesi partner del progetto pilota Globo Etlan 2, per ora limitato al bacino del Mediterraneo. In futuro l'Agenzia Spaziale Europea intende allargarlo ad una regione più ampia del globo perché mentre il mondo si sviluppa la posta in gioco aumenta. Le zone paludose schiudono una vasta ricchezza di risorse e di valori per le popolazioni. Miliardi di dollari l'anno, le naturali infrastrutture per l'acqua destinata a usi diversi e ancora sono aree che vedono l'incremento della crescita economica dello sviluppo industriale e anche la crescita della popolazione che domanda sempre più alimenti e questa è un'ulteriore difficoltà per le zone umide. A tutto questo forte impatto si aggiunge la sfida maggiore, quella del riscaldamento climatico che metterà a dura prova tutte le specie viventi sul pianeta Terra.